Ha destato enorme preoccupazione anche nell'agro nocerino sarnese il vasto incendio che ieri pomeriggio ha interessato l'azienda X produttrice di contenitori di plastica per batterie di auto nell'area industriale di Adellino. In molti hanno segnalato anche sui social l'enorme colonna di fumo nero e la nube trasportata da eventi anche in zona. La protezione civile ha confermato che per l'area dell'agro non vi è nessun pericolo anche se in molti hanno preferito tenere finestre e balconi chiusi. Adesso si attendono i primi dati che fornirà la centralina mobile dell'ARPAC collocata all'interno dell'ospedale Moscati per capire la qualità dell'area e la presenza di eventuali agenti inquinanti. Dopodiché si aprirà la fase delle indagini. Al vaio anche le immagini realizzate dal drone che nella serata di ieri la protezione civile ha fatto alzare nei cieli di Avellino. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa il dolo. Potrebbe trattarsi anche di un gesto di avvertimento che invece ha provocato un incidente spaventoso. Sulla pericolosità della nube nell'area dell'agro a tranquillizzare i cittadini è anche Michele Pepe, presidente della Papa Charlie. C'è stata una grossa preoccupazione perché è zeppo di industrie, una a ridosso dell'altra. Il pericolo nasceva soprattutto da questo. Per quanto riguarda poi quello che è stato detto scoppio, non c'è stato nessuno scoppio dell'azienda perché lì producono quasi esclusivamente materiale plastico e sono gli involucri per le batterie. Praticamente è un indotto del gruppo Fiat che è presente nell'Avellinese. E' pomeriggio verso le 18 anche prima i vigili del fuoco avevano avuto già ragione delle fiamme. Certo c'è stata una grossa preoccupazione nata dal fatto, ripeto, che quella pianotardi nella zona industriale di Avellino. Siccome la plastica e le fiamme erano di una certa consistenza c'era preoccupazione per le altre aziende che erano vicine. Praticamente per questo motivo erano stati fatti evacuare anche gli operai e i dipendenti. Per quanto riguarda poi la nube che questa famosa nube tossica che poi non era altro che quello che succede normalmente anche quando c'è stato incendio di qualche capannone industriale da noi. Praticamente se qualcuno ha visto bene le immagini anche i carabinieri intervenuti sul posto non erano dotati assolutamente di mascherine o di altre protezioni. Figuratevi poi ad arrivare qua a 50 chilometri di distanza. Infatti la prefettura di Avellino aveva indicato bene i paesi verso cui si stava dirigendo questa nube di fumo nero, sicuramente fastidiosa e tossica per la nostra salute, però quelli erano i paesi interessati dalla cosa. Lì le persone dovevano chiudere, stare in casa, evitare di uscire finché la situazione non tornasse normale. Qui a Pagani c'è stato, ma penso nell'agro, un allarmismo. Io ho notato una cosa che la gente si inventa le cose, le dicono senza seguire una prassi. La comunicazione in emergenza è qualcosa di importante perché infatti poi sono arrivate decine e decine di telefonate dai nostri concittadini perché volevano sapere di che cosa si trattava, se c'era veramente un pericolo. Io mi sono rapportato chiaramente con il sindaco che è autorità di protezione civile, la prefettura stava monitorando, poi se c'era qualche pericolo incombente noi avremmo provveduto con i mezzi di comunicazione ad avvisare la popolazione.